leo il camioncino curioso la gru uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci stiamo giocando a nascondino robot viola introvabile anche lifty è sparito tra i grandi rottami il robot rosso si distrae guardando il camion gru che deposita un rottame molto in alto è un'idea nascondersi lassù si proviamo da quassù si vede il mondo intero bellissimo impossibile uscire da qui ehi il robot rosso è rimasto chiuso tra i rottami troppo pesante il camion gru il suo braccio è fortissimo evviva sì liberiamo il robot rosso questo vecchio camion è incastrato nei rottami ma sta arrivando leo ciao non riusciamo a liberare il robot rosso ti sta salutando come possiamo fare guardate questa è una gru fissa a torre sono potentissime componiamo la base i tralicci che compongono la torre uno due e tre la cabina per l'operatore della gru le parti scorrevoli del braccio l'una dentro l'altra i contrappesi gancio e carrugola ed ecco il cavo d'acciaio dove attaccare il gancio guardate la potente gru domina tutti i mucchi di rottami liberiamo il robot rosso i comandi sono nella cabina e già bisognerebbe volare per arrivare fino a lassù come ci arriviamo cosa sta cercando leo qualcosa per arrivare lassù qualcuno sta spingendo una piattaforma senza farsi vedere leo ehi leo con questa si può salire lungo la gru prendiamola pronti robot blu sale sulla potente gru ci siamo amici iniziamo estendiamo il braccio togliamo dall'alto tutti i rottami che bloccano il vecchio camion e via anche il camion attenzione robot rosso stiamo per volare a a a a a a a a a ma chi è? vive in mezzo ai rottami? lo scopriremo alla prossima leo il camioncino curioso il grande camion gru siamo nel parco giochi quanti colori il robot blu spinge a terra un grosso anello gonfiabile ed ecco un altro grosso anello che cade pesantemente a terra l'anello gonfiabile è pieno d'aria ma è comunque pesante il robot rosso sta pensando come fare per mettere un anello sopra l'altro tutti insieme vai lì oh no il robot viola è bloccato sotto l'anello gonfiabile aiutiamola a liberarsi non ce la facciamo grazie Lifty vogliamo fare una piramide di anelli chi ci può aiutare? guardate il nostro amico leo ha il cassone colmo di pezzi da assemblare ma dove sta andando? oh il carico era troppo alto e un pezzo è caduto all'ingresso del sottopasso è un grosso gancio a cosa servirà? ciao leo sai come alzare questi anelli gonfiabili? wow una cabina è un grande veicolo montiamolo tutti insieme un robusto telaio la cabina di pilotaggio una piattaforma i parafanghi posteriori e il serbatoio del carburante quattro stabilizzatori due da un lato e due dall'altro quattro ruote una due tre quattro tutti questi pezzi montandoli formano un grosso braccio sì abbiamo assemblato un camion gru manca il gancio leo è indispensabile dobbiamo trovarlo no non è dietro agli alberi leo nemmeno qui leo abbiamo visto cadere un gancio lungo la strada prima del ponte sembra proprio un gancio per gru la gru può assemblare la piramide evviva è il suo gancio la gru può assemblare la piramide mettiamo l'anello blu su quello viola e poi mettiamo quello rosso e l'anello giallo e poi quello verde ecco la piramide di anelli gonfiabili che bellissimi colori grazie camion gru grazie camion gru leo lifty che colori viene voglia di abbracciarla robot salutiamo i nostri amici bambini ciao alla prossima puntata con leo il camioncino curioso il camioncino curioso